grande novità ed iro 2014 quest'anno abbiamo prodotto made in italy questo delta idro e siamo qui con graziano mazzolari della scuola italiana volo graziano ci racconti di questo particolare velivolo si questo particolare velivolo innanzitutto è un anfibio cioè non è solo idro perché idro andrebbe solo in acqua e basta invece questo qui parte dalla pista e può andare in acqua perché ha le ruote che sono ritrateli in tre secondi comunque noi quest'anno abbiamo voluto presentare un mezzo totalmente italiano perciò abbiamo riunito cinque aziende le abbiamo messe insieme perciò la scuola italiana volo che produce i galleggianti la nuova rossi soavi che produce il terrello la simonini racing che produce il motore e qui abbiamo un motore da 100 cavalli un bicilindri con due tempi da 100 cavalli la spica propeller di messina che produce le eliche e la griff di viterbo che produce le ali noi abbiamo voluto fare un prodotto totalmente italiano perché l'italia merita di mettere insieme le proprie eccellenze e farle vedere al mondo intero sui 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 Grazie a tutti.